La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sempre. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova? Bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Ma per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica, un po' una malattia dei giovani, l'indifferentismo. La politica è una brutta cosa, che me ne importa della politica? E io quando sento fare questo discorso mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina, che qualche uno di voi conoscerà, di quei due emigranti, due contadini che attraversavano l'oceano su un piroscafo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte e si accorgeva che c'era una gran burrasca con delle onde altissime e il piroscafo oscillava. E allora questo contadino impaurito domanda a un marinaio, ma siamo in pericolo? E questo dice, se continuo a questo mare, tra mezz'ora il bastimento affonda. Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno e dice, Beppe, Beppe, Beppe! E continuo a questo mare, tra mezz'ora il bastimento affonda. Quello dice, che me ne importa? Nemica mio! Questo è l'indifferentismo alla politica. È così bello, è così comodo, è vero? È così comodo. La libertà c'è, si vive in regime di libertà. C'è altre cose da fare che interessarsi di politica. E lo so anch'io. Il mondo è così bello, ci sono tante belle cose da vedere, da godere, oltre che occuparsi di politica. E la politica non è una piacevole cosa. Però la libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent'anni e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai. E vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni, perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, vigilare, dando il proprio contributo alla vita della politica. Quindi voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto. Questa è una delle gioie della vita, rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, non è solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto, un tutto nei limiti dell'Italia e nel mondo. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro a ogni articolo di questa Costituzione o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti, combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta, questo è un testamento, un testamento di centomila morti. se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove cadero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccani. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.